Grazie 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 Fra, Pieve e Cisone Per la promozione del turismo integrato Usufruendo adolo iate di Valdobiadene E sempre di più le richieste che ci arrivano, i numeri che ci arrivano da Valdobiadene Sono sempre richieste più numerose di visita dell'abbazia Che è il nostro fiore all'occhiello Inutile dirlo E del nostro territorio Adesso io lascio la parola a Mario Collette dicendovi solo che l'ultima cosa che vorrei dirvi è che sono veramente orgoglioso di presentare oggi questo incontro dei Madonnari perché provate a pensare, provate a immaginare questi artisti, 30 artisti che disegneranno le vie del paese che le coloreranno con opere d'arte perché già Luca Le Conto ci ha dato un'anteprima ai mercatini chiamando dei Madonnari e c'era la fila di persone che si fermava a guardare queste opere d'arte e è triste poi, ma questa è la vita dei Madonnari che al termine di questa manifestazione purtroppo sarà un delitto ma le macchine cominceranno a passarci sopra e a togliere queste che sono veramente opere d'arte su strada quindi io adesso lascio la parola al sindaco Mario Collette e vi ringrazio ancora della presenza e ringrazio anche l'assessore Canella grazie Dopo l'intervento di Luca il sindaco resta ben poco da dire il sindaco ha il piacere di portare il saluto a tutti quanti voi lo porta in special modo all'assessore regionale Federico Caner a quale anch'io mi rifunisco i graziamenti che ha fatto Luca per essere stato presente e per essere arrivato ancora prima della stampa avevamo preoccupazioni perché era già impegnato da un'altra parte ci eravamo invece d'accordo ma la tireremo un po' lunga e invece anche in questo caso siamo stati puntualissimi ringrazio la stampa per essere presente e vorrei sottolineare solo una cosa questo non è una manifestazione, un evento che capita a caso è il frutto di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni che sono presenti nel territorio l'avevamo detto quattro anni fa quando ci siamo insediati che volevamo così insaurare un rapporto di fiducia e di amicizia con le amministrazioni perché sono la spina dorsale di qualsiasi comunità lo dico sempre anche quando ci troviamo con voi ai nostri incontri che un'amministrazione senza le associazioni senza il volontariato riesce a fare del poco per cui questa iniziativa che il Comune ha voluto essere con partecipe insieme al Comitato Festeggiamenti La Bella Faroffa di Guarda è stato voluto proprio perché per dare così a Pollina un'iniziativa di primo rilieo avere un concorso internazionale per la prima volta del Veneto a Pollina non è cosa da poco ho avvisato di questo anche la presidenza dei Borghi Più Velli d'Italia che ci ha fatto grandi complimenti e ci ha detto di continuare in questa strada voglio darvi anche un anticipo probabilmente forse nel 2021 ci sarà l'Assemblea Nazionale dei Borghi Più Velli d'Italia a Pollina sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio ma già ho avuto contatti con il Presidente Fiorello Primi anche con il Direttore Generale Umberto Forte e sarebbero molto intenzionati a portare questa manifestazione veramente di pregio nel nostro comune dico che questa manifestazione non poteva cadere nel posto più adatto perché ai piedi della Abbazia di Pollina che è l'Abbazia della Beata Vergine i Madonnari penso che sia come giocano in casa giocano in casa per cui un grazie infinito al Comitato Festeggiamenti che non si tira mai indietro quando ci sono delle iniziative da portare avanti anche di un certo rilievo che soprattutto chiedono un impegno un impegno non indifferente vorrei anche aggiungere che ci tengo a sottolineare un'altra volta che è proprio questo rapporto che abbiamo instaurato con le nostre associazioni che ci hanno portato ad avere anche altre manifestazioni di prestigio anche nelle frazioni non solo nel centro di Pollina io mi auguro che la strada che abbiamo iniziato non voglio far politica ma la faccio vada portata avanti se ci saremo noi sicuramente perché ci crediamo speriamo però che a tutti debba stare a cuore quello che è il futuro e la nostra Pollina di portarla ai livelli che sempre ci sono stati Pollina ha rappresentato sempre il crocevia culturale e spirituale per tutta la vallata proprio per questa abbazia che era insediata proprio in questa crocevia noi ci siamo dati da fare e penso che i risultati si sono visti grazie e grazie di nuovo all'assessore che è qui con noi adesso passerei la parola al presidente del comitato che è precisamente farò la bella pedeguarda Luca De Conto che ci spiegherà questa manifestazione che ci sarà il 27-28 grazie buongiorno a tutti buongiorno anche alla stampa ringrazio l'assessore Caner che oggi è qua con noi e che ci ha ricevuti anche a Venezia lo ringrazio tantissimo anche a nome del comitato che qua è ben rappresentato ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale che ha accettato questa nuova avventura per il comitato dove è nata questa avventura? è nata per caso è due o tre anni che durante i colori di primavera invitiamo dei madonari in particolare Stefania una madonara della zona della Valpolicella che all'ultimo mercatino ci ha proposto perché non fate un concorso per i madonari? allora ci abbiamo pensato perché eravamo un po' inesperti su questa materia lei ci ha procurato tutte le informazioni possibili a Epifania è venuta a farci visita e da là siamo partiti anche forse un po' in ritardo però siamo partiti con questa iniziativa che verrà fatta il 27-28 aprile a Folina nel centro assieme ai madonari ci sarà un mercatino di obbisti artigiani all'interno delle due piazze e all'interno di Palazzo Barberis voglio anche sottolineare che all'inaugurazione di sabato 27 aprile ci sarà il signor Carlo Bottani sindaco di Curtatone un piccolo bordo di Mantua dove viene fatta ogni anno una rassegna mondiale di madonari sarà presente anche il signor Carlo Beduschi presidente del CIM centro italiano madonari hanno accettato l'invito del sindaco e il sindaco mi ha confermato che ci saranno all'inaugurazione giorno 27 prima dell'inizio della manifestazione dei madonari della loro arte che inizia alle 16 alle ore 15 in Abbazia ci sarà una santa messa fatta dai servi di Maria finita messa ci sarà una processione si arriverà davanti al Palazzo Barberis e là ci sarà la benedizione dei gessetti e la benedizione di tutte le postazioni di mantonari questa è una loro tradizione verrà fatta anche qua a Follina alla fine della manifestazione ci saranno ovviamente dei premi c'è il primo premio città di Follina alla migliore opera in cui sarà espresso un omaggio del paese di Follina c'è già qualcuno che ha mandato delle bozze che farà qualcosa di Follina il secondo premio un altro premio è il premio croce alla migliore opera a tema sacro un altro premio sarà il premio vita alla migliore opera a tema profano dopo ci sarà un premio della giuria popolare perché chi passerà a vedere i mantonari può dare il proprio voto alle opere alla fine ci sarà la premiazione spero che magari anche l'assessore potrà essere presente all'innovazione o alla premiazione avremo molto piacere quindi se può essere presente questo più o meno è quello che faremo in questi due giorni io devo anche ringraziare tutto il consiglio del comitato che mi dà una mano a fare questa cosa perché altrimenti da solo non si potrebbe andare avanti e tutte le persone oltre al consiglio che lavorano siamo in tanti dai più giovani ai più vecchi senza il volontariato queste cose non si potrebbero più fare perché hanno dei costi e della burocrazia ormai anche per le associazioni che invece di agevolare vanno sempre peggio quindi ringrazio vedo che ci sono molti presenti quindi li ringrazio tantissimo perché senza loro non potrei fare niente da solo vi aspettiamo a Follina quindi il 27 e il 28 speriamo che il tempo ci assista grazie prima di passare la parola all'assessore al turismo Federico Caner io vi porto anche i saluti di Alberto Villanova consigliere regionale che ho sentito anche prima e ieri ma ha un appuntamento al Cerletti di Conegliano e sperava di farcela infatti abbiamo aspettato magari qualche minuto ma vi porto i suoi saluti e sarà sicuramente presente all'inaugurazione dei mercatini quindi passo adesso la parola Federico Caner grazie buongiorno a tutti innanzitutto grazie al sindaco all'inistituzione Luca Zanta un amico e al presidente del conto grazie per l'iniziativa per l'organizzazione perché vedo molto fermento a Follina e anche un po' nella nostra pedemontanarende io cerco di essere presente il più possibile dopo gli impegni gli impegni sono tanti però vedo che c'è fermento sul territorio e i dati turistici che io ho sotto mano dimostrano questo fermento questa voglia di fare non è un caso che nonostante abbiamo avuto un 2018 positivo in termini di presente turistiche ma diciamo un anno di consolidamento rispetto agli anni precedenti quindi con le presenze che più o meno si sono attestate su quelle del 2017 la provincia di Treviso ha avuto una crescita del più 6,5% in particolare queste aree qua l'area della pedemontana veneta io le chiamo così le aree del prosecco chiamiamole come volete ma insomma le nostre colline ecco le chiamo le nostre colline stanno vivendo veramente una seconda giovinezza questo credo sia frutto del lavoro che si sta facendo non credo solo della regione veneta ma soprattutto dei sindaci delle associazioni di volontariato dei comitati delle proloco di tutti coloro anche che ci mettono del volontariato e che lanciano delle idee come è questa questa è una bellissima idea per portare gente sul territorio ma soprattutto nel concorso internazionale il che significa non solo veicolare il nostro territorio all'interno delle mura domestiche quindi della regione veneto o dell'italia ma arrivare addirittura a livello internazionale ci sono degli americani che verranno appositamente qui e questa gente che quando poi verrà qua per una questione specifica come questa avrà modo di conoscere il territorio o comunque di vedere che esiste un'area particolare che secondo me è una delle più belle che esista a livello mondiale per le sue caratteristiche non a caso l'abbiamo candidata come patrimonio dell'Unesco le nostre colline però è anche vero che questo territorio non è legato soltanto al prodotto prosecco ma è collegato a tante altre iniziative come questa che stiamo oggi presentando ed è questo che è qua che va il mio applauso all'amministrazione a chi ha avuto questa idea al comitato festeggiamenti perché significa creare nuovi prodotti turistici io lo dico sempre noi dobbiamo sederci sugli allori non dobbiamo pensare che il nostro prodotto di punta per il quale adesso siamo conosciuti in tutto il mondo ci possa trainare da solo prima di tutto perché non si sa mai cosa succede a livello mondiale ci possono essere anche magari che non so speriamo di noto chiamo ferro ma anche situazioni voglio dire di calo improvviso perché il mondo va così è talmente veloce che adesso tutto cambia velocemente e quindi non ci si può appendere soltanto a un prodotto turistico o a delle produzioni locali enogastronomiche ma bisogna spaziare il più possibile cioè inventarsi di tutto e di più e far conoscere il territorio quindi anche le produzioni enogastronomiche sono collegate a far conoscere il territorio perché se le teniamo staccate c'è questo rischio qua vendiamo 500 milioni di bottiglie al mondo di Prosecco 90 di Dio Cigi quindi di questa area però pochi sanno pochi sanno che i prodotti del Prosecco Dio Cigi viene prodotto in questa area questo è un problema allora tutte quelle che sono le iniziative che aiutano a far conoscere a livello internazionale il nostro territorio sono positive perché poi fanno da traino tutto il resto noi stiamo puntando molto sul turismo slow così è il turismo lento stiamo puntando molto sui borghi più belli d'Italia mi fa piacere che Follina adesso sono entrati stanno pian piano entrando anche altri comuni nel Veneto stiamo puntando molto su queste cose perché il turismo legato alle città d'arte alla cultura all'enogastronomia cresce sempre di più pensate che il 25% dei turisti internazionali si muove con una motivazione legata all'enogastronomia e altri tanti con una motivazione legata alla cultura quindi qua noi abbiamo delle bellezze incredibili che anche questa nicchia diciamo legata alla volontà di creare questo concorso internazionale dei madonnari fa sì che arriveranno gente legata a questo richiamo a questa volontà ma che poi conoscerà un territorio importante e quindi magari ci ritornerà con la famiglia sono tanti percorsi nelle nostre zone pensiamo al ciclo turismo a tutto il lavoro che stiamo facendo sia come regione vento ma anche come territorio prima ne abbiamo avuto un esempio che ci ha fermento anche da questo punto di vista non vi dico cosa se non bruciamo delle cose nuove sulle quali stiamo lavorando però legate al ciclo turismo che veramente sta facendo esplodere questa zona mi piace il fatto che nel 2021 ci sia la possibilità di avere qua a Follina l'evento della serie dei bordi più belli d'Italia perché questa è un'altra occasione di far conoscere il territorio speriamo che il riconoscimento come vi dicevo prima il riconoscimento delle colline patrimonio lonesco ci porterà a decuplicare il numero delle presenze turistiche sui nostri territori decuplicare vuol dire dieci volte quello che adesso abbiamo attenzione però faccio un monito lo dico un po' a tutti perché va bene che entri nella mentalità del cittadino noi vogliamo un turismo sostenibile cioè un turismo sì perché porta ricchezza sul territorio non ripeto vincolato soltanto a un prodotto perché altrimenti rischiamo di diventare un nuovo prodotto non va bene quindi dobbiamo differenziare però vogliamo che sia un turismo sostenibile ecosostenibile sul territorio quindi significa che non vogliamo puntare su grandi alberghi sulle eccitività di questo tipo ma mettere a posto quello che già abbiamo puntare molto anche sull'extra alberghiero quindi la possibilità di mettere a posto le nostre casette che ci sono e dà anche la possibilità alla nostra gente di avere una fonte di reddito integrativa e alternativa e fare un turismo diffuso sul territorio di questo tipo qua il rispetto ambientale sarà fondamentale lo sarà non solo da parte dei produttori quindi di chi fa agricoltura sul territorio devo dire che lo stanno già facendo perché c'è tanta sensibilità da parte dei consorzi sia del vitivinicolo ma anche del mondo contadino in particolare sta aumentando questa coscienza so che ci sono dei problemi sul territorio è inutile negarlo però so che sta anche crescendo questa cultura e secondo me è fondamentale perché ripeto noi dobbiamo vendere un territorio e se vogliamo fare turismo dobbiamo vendere anche l'ambiente cioè il fatto che sia un territorio sano dove si mangia bene si beve bene e si ha una qualità della vita elevata questo è l'impegno che noi come Regione Veneto stiamo cercando di portare avanti in accordo con le amministrazioni locali quindi tutte quelle iniziative che vanno in questo senso e questa è una di queste è una delle eccellenze del territorio vedranno il sostegno della Regione Veneto io vi ringrazio per l'attenzione faccio ancora i complimenti all'amministrazione e per quanto ci riguarda sia in termini di disponibilità compatibilmente con gli impegni sia in termini di risorse economiche perché la Regione c'è anche su questa partita saremo a disposizione grazie prima di lasciare spazio a domande se ci sono sono assolutamente in linea con quanto detto dall'assessore Caner il nostro non deve essere e non sarà mai un turismo di massa sarà veramente un turismo qualificato un turismo dove le persone che vengono qua non amano solo mangiare bene ma amano anche fare una passeggiata per i nostri sentieri per le nostre opere d'arte di cui noi come amministrazione comunale veramente abbiamo la massima attenzione soprattutto al recupero sarà importante anche poter recuperare tutte quelle casere che ci sono nel nostro territorio che sono bellissime e che sono ricercatissime da chi vuole passare una o due noti nel nostro territorio quindi quello sarà anche un altro aspetto da considerare per il futuro di questo turismo che sarà sempre più più gesto andato adesso se ci sono delle domande profittiamo della presenza ma prima delle domande vorrei dire una cosa che ci siamo dimenticati tutti a parte ringraziare l'assessore anche per l'aiuto in termini economici che ci ha promesso e ci darà ma volevo far notare a tutti che ci è stato dato anche non solo il patrocinio ma anche il logo del Land of Venice che non è un logo che viene dato con facilità dalla regione e non viene dato neanche a tutti ma soltanto in presenza di iniziative veramente di pregio per cui io lo ringrazio perché pregiarsi di questo logo non è cosa di tutti i giorni non è cosa da tutti e io lo ringrazio a nome della mia comunità polinese perché ha voluto farci omaggio di questa cosa importantissima che arricchisce anche l'offerta e anche il lavoro il lavoro fatto dal nostro comitato festeggiamenti se adesso ci sono delle domande tu dici che siamo stai brai se non ci sono domande allora vi invito io a prendere un buffet un rinfresco proprio nella porta accanto visto che il caldo di oggi insomma ci dobbiamo un proseguo tanto i dati quali hanno giornalisti qui ci sono tutti i dati nelle foglie che trovate lì Luca se c'è altro da aggiungere se no io ringrazierai veramente anche chi è venuto qua di persona ad ascoltare e veramente ancora un complimenti al comitato festeggiamento di Parola Bella Pedeguarda per quanto sta facendo grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti